Dopo l'anteprima al ghiacciaio dei Forni, la carovana dei ghiacciai da mercoledì 28 a sabato 31 agosto torna in provincia di Sondrio. La campagna nazionale di Lega Ambiente che monitora i ghiacciai alpini in collaborazione con Cipra Italia e la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano farà tappa la quarta di questa quinta edizione al ghiacciaio Fellaria in Alta Valmalenco. La visita sarà preceduta mercoledì 28 a Bormio alle 17 dall'incontro pubblico dal titolo Una montagna in cambiamento dalle evidenze agli scenari futuri che si terrà alla sala della Banca Popolare di Sondrio di Via Roma con una lunga serie di illustri relatori tra i quali l'alpinista Agostino da Polenza. Giovedì 29 e venerdì 30 agosto escursione in quota. Nel primo giorno si salirà verso il rifugio Bignami dove si terrà il tradizionale saluto al ghiacciaio. Venerdì invece l'escursione vera e propria al Fellaria. Una volta arrivati al punto panoramico del ghiacciaio ci sarà un momento di osservazione delle morfologie glaciali. La tappa lombarda di Carovana dei Ghiacciai si concluderà sabato 31 con la conferenza stampa in programma al Museo Valtellinese di Storia ed Arte a Sondrio dove saranno presentati i dati sullo stato di salute del Fellaria. È una montagna in sofferenza quella che risaliamo anche in questa edizione di Carovana dei Ghiacciai in Valtellina, ha commentato Barbara Meggetto, presidente di Lega Ambiente Lombardia. Non basta un anno con molta neve per cambiare la situazione. Occorre invece pianificare meglio l'uso delle risorse e la conservazione dell'ecosistema montano. Il ghiacciaio di Fellaria con i suoi laghi, ha aggiunto Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Lega Ambiente e presidente di Cipra Italia, racconta di come il paesaggio in alta quota si stia evolvendo con una rapidità incredibile. Che tutto sia in cambiamento è un dato di fatto ovvio, ma quel che sorprende ancora una volta è la velocità. In alta quota tutto sta cambiando e pochi se ne stanno accorgendo. Eppure mai come oggi è importante conoscere questi cambiamenti per capire come e quali politiche di adattamento mettere in campo, anche spostando il punto di vista abituale.